mi piacerebbe riaprire tutto e subito ma sarebbe responsabile così il presidente del consiglio giuseppe conte in un lungo messaggio postato su facebook martedì mattina anticipando di due settimane il probabile avvio della fase 2 il prossimo 4 maggio prima della fine di questa settimana confido di comunicarvi questo piano ha detto un piano che attualmente allo studio del governo con il supporto degli esperti definito come scientifico e all'insegna della massima cautela non possiamo affidarci a decisioni estemporane pur di assecondare una parte dell'opinione pubblica o di soddisfare le richieste di alcune categorie produttive di singole aziende o di specifiche regioni ha voluto sottolineare così il premier l'importanza per la politica di non lasciarsi influenzare da nessuno nella scelta finale e riaprire le imprese limitandoci l'applicazione dei protocolli di sicurezza per i luoghi di lavoro non basta sostiene conte per il quale vanno valutati i flussi dei lavoratori l'utilizzo dei mezzi pubblici gli orari degli spostamenti nella fase 2 non potranno più esistere le ore di punta e bisognerà favorire il ricorso a modalità di trasporto alternative il tutto in maniera diversa regione per regione perché in basilicata aggiunto conte non ci si sposta come lombardia una complessità dunque che allontana dalla mente del governo lo slogan apriamo tutto fin troppo facile dirlo ha ribedito conte il giorno prima il leader della lega matteo salvini aveva criticato la lunga chiusura non vorrei che qualcuno volesse così mantenere il controllo sugli italiani ha detto giorgia meloni di fratelli d'italia ha sollevato dubbi sulla app per i tracciamenti del contagio conte ha chiesto in questa fase uno spirito unitario